e ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video sono andrea slayer e bentornati qua ragazzi bentornate tutti oggi siamo qua con un nuovo video di mappe di edit ragazzi perché perché il mio gatto si arrampica sul letto vabbè lasciamola arrampicare sul letto non so se avevate ascoltato nello scorso video che avevo detto che avrei fatto altri video su queste cose e eccoci ragazzi come promesso siamo qua su una mappa di edit fantastica ancora più bella di quella della scorsa volta ogni volta una più bella dell'altra ragazzi e entriamo intanto il codice se lo volete guardate sopra e ve lo metto anche in descrizione il codice della mappa 1593 3986 3647 ve lo metto anche in descrizione questa è la mappa intanto per farvi capire che figata che cosa abbiamo qua davanti oddio ragazzi che figo è la prima volta che la sto provando perché la voglio provare con voi la voglio testare insieme a voi ragazzi e mi sembra una bella cosa è fighissima qua ci sono le cose tipo perché vai subito su cosa ho fatto ti teletrasporta subito su questa cosa prendiamoci questo e questo anche anche il dettplano dai questo no grazie ce l'ho già perfetto così possiamo così se magari stiamo cadendo apriamo il dettplano così è easy niente allora ragazzi questo io direi di iniziare da mannaggia il mouse direi di iniziare da qua come vedete ragazzi c'è è un po' difficile perché io sto già iniziando da quelle difficili dobbiamo iniziare da quelle facili infatti iniziamo prima da quelle facili ragazzi andiamoci un po' già ho appena aperto fortnite quindi esco no no questo no questo se non lo so fare sono un nabu cioè ok no ragazzi se non so fare questo non so cosa sono è vero che negli edit faccio schifo lo ammetto però non so per fare queste cose esagerato quindi per fortuna le so fare vabbè sì facile questo dai cheat vabbè abbiamo finito no vabbè troppo finito in cima no ragazzi va bene così va bene così allora poi ci sono varie sezioni di edit quella che puoi salire in su quella dove dove scendi in giù e poi ci sono le cose per i tunnel tipo là in fondo non so se le riuscite a vedere quindi andiamo verso di là allora qua ci sono ragazzi questa mappa è troppo bella c'è guardate che figata ma perché devo essere così scarso eh vabbè è un po' difficile dai mi posso abituare mi posso abituare mannaccia vabbè raga niente quante cose ci sono raga io direi di andare a fare sta cosa no andiamo là sopra ma qua sopra c'è una cosa di edito pure no raga sono curioso perché non ho capito andiamo qua sopra vediamo ma what the hell cosa fa ok cosa dovrebbe fare ah qua poi ah torni giù così queste è infatti l'avevo detto che c'erano delle cose per andare giù oddio raga sono concentratissimo ok io direi basta guarda che quante cose raga usiamo questo per andare fuori da qua e basta andiamoci in un'altra cosa di edit come vedete ragazzi ci sono un sacco di cose da provare è molto meglio della mappa che avevo fatto la scorsa volta mi sa eh anche se l'altra era molto messa bene però anche questa raga non scherza qua possiamo andare qua sopra dai che ci arrivo ci arrivo ci arrivo ci arrivo sì perfetto no ste cose non mi potete mettere ste cose gioco io le ste cose qua non le so fare cioè faccio schifo le so fare con il pavimento sotto è meglio non sono abituato a fare solo scala infatti vabbè abbiamo capito andiamo a farci un'altra sezione vai il porta esattamente qua sopra finissimo ecco qua forse lo so far meglio perché c'è anche no però lo vorrei fare in legno perché mi confondo col metallo quindi andiamo col legno infatti è comunque difficile ma mi trovo meglio così che solo con le scale ok dai va bene lasciamo perdere la mia scarsitudine ecco come si può dire e proviamo a fare altre cose tipo qua c'è una cosa che vai giù fai così non lo so qualcos'altro mi vuoi mettere qualcos'altro e vabbè cosa ho fatto mi scusi madonna regà oh ce l'ho fatta mannaggia regà vabbè che cioè si non è neanche troppo difficile ma non è neanche troppo facile per me per me poi per chi è forte andiamo a farci un'altra sezione comunque nel tempo che ci siamo cos'è che non abbiamo ancora fatto vediamo 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 poi per tornare indietro ci avete queste cose regà che così ma ok perfetto qua cosa c'è ah nada ah qua è per allenarsi per è per allenarsi nella mira regà perché in stampa c'è tutto oltre all'edit prendiamoci qualcosa perfect qua devi credo devi uccidere ah ho capito ce la posso fare giuro si vabbè potrei fare di meglio dai non l'ho neanche preso ma siamo seri voglio provare a fare una cosa aspe vabbè non la so fare ragazzi lasciate perdere vabbè comunque come avete visto c'è anche quello per la mira quindi regà tanta roba tanta roba pure quello per la mira quello che cos'è invece credo che sia questo per salire per salire facendo un jump bello tipo così regà credo no non così eh sì tipo così credo dovrebbe essere così poi se c'è qualcuno fai così pam mi spari addosso se avrai il pompa quello non combat lo spas sarebbe meglio però facciamo anche con combat dai no 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 se cado regà devo rifare tutto stiamo scherzando ok perfetto no un altro qua per allenarsi tipo c'hai qualcuno qua fai così dispari subito solo che non è mica facile regà diciamo che c'è da fare un po' di allenamento e sta mappa è fatta apposta per chi vuole fare video su sta mappa ragazzi non glielo nego potete farlo anche voi tanto la mappa mica l'ho fatta io regà cioè potete farlo anche voi non mi arrabbio se l'ho fatta anche voi di video con sta mappa quindi se volete potete come ha fatto anche Easyjoy che saluto grande Easyjoy no vabbè raga comunque avete capito com'è questa sezione andiamo da un'altra parte qua c'è ah questo l'ho già fatto prima ok facciamo un'altra cosa tipo questa qua dai anche se è un po' difficolt no vabbè raga qua devi editare devi far così devi ripristinare editare raga quanto difficile e io qua manco l'ho ripristinato ma d'ora regà vai che è difficile se non ci fosse da ripristinare ce la farei più facile ma così oh Gesù oh Gesù la mia mano la mia mano sta esplodendo eh ma che cosa ho fatto vabbè avete capito qua che che è un po' difficilino ora direi di andare di fare queste cose qua se è possibile oppure proviamo a fare queste raga questa qua questa qua dai 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 ci proviamo ci proviamo raga è utilissimo il deltaplano in sta mappa perché anzi raga facciamo questo che non ho capito com'è ah questo è quello che ho fatto prima ok va bene va bene va bene facciamo questo allora dai ok questo è senza editare il muro quindi è un po' più facile se riesco a salire oh raga è più difficile salire che editare ma dio boh raga cioè qua c'è da imparare a saltare ecco raga vabbè Andrea come c'è ma dai ma cos'è vabbè abbiamo capito che non so non so saltare io questo invece questo dovrebbe essere più facile perché vabbè andiamo in un'altra sezione questa l'abbiamo già vista ah qua è per salire credo se fai così ah sì sì raga è per salire no mi scusi ok raga facciamo l'ultima questa sezione e poi direi di chiudere e niente raga abbiamo finito gli ho fatto vedere come si fa quindi ragazzi vi lascio il codice di stampa in descrizione intanto quindi se la volete fare la volete provare ve la lascio in descrizione e niente se il video vi è piaciuto lasciate un bellissimo like che non fa male a nessuno cioè raga io mi dico quanto ci vuole scacciare un like c'è un tasto sotto se tutte le persone che guardano i video mettessero like cosa succederebbe avrei 100 like forse anche di più però vabbè raga non può succedere comunque io vorrei fare un esperimento raga solo per un video tutte le persone che guardano sto video devono mettere like cioè un giorno lo voglio fare ci voglio provare perché cioè potrebbe succedere il bordello raga raga mi sto chiedendo quanto cavolo durerà durerà questa cosa ok comunque ragazzi basta finisco il video qua perché sennò mi dilungo troppo ed è meglio di no eh si vabbè raga è lunghissimo quindi ragazzi spero che questo video sia piaciuto e niente iscrivetevi e noi ci avviciniamo come sempre ad un prossimo video grazie a tutti